I due presunti scafisti dello sbarco di sabato sera che aveva portato 38 immigrati al porto delle Grazie di Roccella Ionica sono stati rintracciati a bordo di un gommone alla deriva dalla motovedetta CP 326 della Guardia Costiera di Roccella Ionica. I due presunti scafisti non avevano chiesto soccorso anche se si trovavano a bordo di un gommone senza motore che probabilmente avevano in precedenza gettato in mare. Dopo che la Guardia Costiera li ha rintracciati e trasportati a terra esattamente portati al molo di soprafrutto del porto delle Grazie sono stati fermati dalla Polizia di Stato del commissariato di Siderno perché indiziati del delitto di sfruttamento di immigrazione clandestina. Ora saranno interrogati dal pubblico ministero di turno per poi essere eventualmente giudicati per direttissima.